Un saluto ai telespettatori delle fonti tv e benvenuti a questa nuova puntata di Legal Corner dedicata come di consueto alla rassegna stampa dell'ultimo numero di Le Fonti Legal. Un numero come sempre, forse anche più di altre volte ricco di contenuti. Andiamo a vedere subito la nostra copertina che, come potete vedere, è dedicata a un'intervista doppia. Un'intervista doppia a due grandi avvocati penalisti che sono Giuseppe Fornari, di Fornari Associati, e Giuseppe Iannaccone, dello studio legale Iannaccone. Ebbene, cosa ci hanno raccontato? Ci hanno raccontato, anzitutto, quali sono gli ingredienti necessari e indispensabili per diventare effettivamente grandi penalisti o comunque per costruire dei team di successo. Sappiamo che la figura dell'avvocato penalista è spesso, per sua natura, individualista e il segreto sta proprio nel riuscire a passare appunto da uno status di individualista a quello di parte di un team. Andiamo a vedere appunto l'articolo di copertina, un'intervista appunto doppia, domanda-risposta per Iannaccone Fornari. Anzitutto appunto sono passione e ambizione. E' questa la formula del penalista di successo perché la passione per la professione è chiaramente il primo ingrediente, secondo i due avvocati, per formare una grande squadra. Ma servono anche organizzazione, ambizione, preparazione tecnica, giuridica e anche in campo economico, in modo, e questa è anche un'altra chiave fondamentale, da acquisire da subito la fiducia del cliente. Sappiamo che appunto la figura sempre dell'avvocato penalista ha una sua peculiarità che risiede proprio nella difficoltà per sua natura di acquisire la fiducia da parte del cliente. Poi non solo, Iannaccone Fornari hanno parlato anche del futuro della professione, siamo insomma a un momento di svolta con l'entrata in vigore della riforma cartabia, anche se saranno necessari chiaramente dei decreti attuativi, ma la figura del penalista sarà fondamentale nei prossimi mesi. Hanno parlato poi di post-Covid, di smart working e appunto di riforma del processo penale. Vi invitiamo quindi a leggere questa interessante intervista. Andiamo al contenuto successivo che è dedicato invece al nostro consueto speciale tematico e questo mese di ottobre di speciali ne abbiamo realizzati due. Il primo appunto come potete vedere è dedicato al tema della privacy e della cyber security con professionisti ed esperti a confronto proprio sulla tenuta del nuovo regolamento europeo della privacy. Relativamente nuovo, è già in vigore da un paio d'anni, ma ha dovuto reggere alle forti sollecitazioni, come appunto tutti sapete, date dagli effetti della pandemia, dal Green Pass alla marea di dati personali che sono stati richiesti da parte del governo ai cittadini italiani. Ma si è parlato anche appunto dei nuovi rischi legati agli attacchi informatici per le imprese. Tra le altre abbiamo intervistato Guido Scorza, che è avvocato componente del Garante per la protezione dei dati personali, e Matteo Colombo, che è presidente di Asso di Piori, l'associazione che rappresenta i Data Protection Officer. E poi abbiamo intervistato anche i più importanti studi legali e avvocati esperti di privacy. Il secondo speciale tematico che ho anticipato è legato invece al settore bancario e assicurativo. Anche in questo caso abbiamo fatto il punto su due settori che saranno strategici in seguito, insomma nei prossimi mesi a seguire rispetto all'emergenza sanitaria, che speriamo di esserci lasciati alle spalle, e strategici anche per il piano nazionale per la ripartenza. Tra le altre abbiamo intervistato Germana Martano, che è direttore generale di ANASF, che è l'Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari, che ha parlato di rinnovata fiducia dei risparmiatori, che appunto guidati dai consulenti finanziari stanno alluncando il proprio portafoglio. E potete trovare però appunto altri importanti contenuti all'interno di questo speciale. Infine, lo spazio è dedicato come di consueto alle nostre riflessioni sull'andamento del mondo professionale, chiaramente senza soffermarci in modo esaustivo sul mondo degli avvocati d'affare, ma dando invece una visione di insieme del comparto ordinistico, che come ripetiamo da mesi sta attraversando una grande crisi. Da ultimo vediamo come appunto il mondo, l'ordine, anzi dei commercialisti e l'ordine degli ingegneri siano attraversando anche loro un momento di unpass. Quindi sommando i professionisti, appunto commercialisti, ingegneri e avvocati, parliamo di mezzo milioni di professionisti che non hanno una rappresentanza adeguata in questo momento. Avvocati che stanno vivendo anche, come detto prima, la partita delle riforme intavolate dal Ministro della Giustizia Cartabia, tra cui appunto quella del processo penale, che sarà appunto oggetto di un ampio approfondimento sul prossimo numero di Le Fonti Legal, dove ci sarà proprio un inserto speciale dedicato alla riforma del processo penale, dove metteremo ancora una volta in campo grandi avvocati penalisti da un lato e le istituzioni dall'altro per valutare, diciamo, pregi e difetti di questo importantissimo impianto legislativo. Quindi non mi resta che dirvi di restare in contatto e di restare connessi e continuare a seguirci su Le Fonti TV. Grazie a tutti.